La presenza di Giordano Bruno Guerri ha lasciato un segno incancellabile nella nostra comunità. Non solo ha fatto parlare i monumenti, sorridere i cani, ma ha anche inventato la notte bianca. Una specie di miracolo laico si è realizzato vent'anni fa a Soveria Mannelli, nel quale si sente ancora l'eco, anzi si sentono ancora le parole. Perché si risuona nell'aria il suo motto, apriamo il paracadute, perché la mente va aperta tutta come il paracadute. Grazie.